Non si vede bene la scolatura. Una breve presentazione. Chi sei, da dove vieni e quanti ragazzi hai scopato? Ragazzi, lei è Giulia StudiTime, fa live su Twitch. Tipo otto ore, cioè, non so come faccia, davvero, è un lavoro incredibile. Qui mostro un tipo, uno dei pezzi migliori delle sue live. La ragazza lo fai, cioè, se vogliamo proprio... Sono un collega virtuale, che se stai studiando o lavorando alla casa da solo, io ti faccio compagnia. Cazzo, da quanto ci conosciamo? Ma sì, aprile, quattro mesi, quattro mesi e mezzo ormai. E' il puto bastardo, ne... Lei è ambassador di Twitch, ragazzi, quindi è una ragazza composta. È una ragazza composta, che non può dire le pari. Entro col cazzo di fuori e comincio a fare l'elicottero. Poi i bambini che devo mostrare, hai un pene e devi mostrarlo, perché? Perché da un po' che nessuno lo vede. Sai come facevo io nella casa vecchia? No, no! Dopo lo raccolgo, dai. Ma no, no! Come il resto, vuoi prenderlo adesso? Allora, sai cosa freca? Sputi o Ingoi? Ingoi? Sputi. Ingoi. Perché hai scelto di cambiare casa? Ho bisogno di un gameplay perché non riesco ad ascoltarti, se no. Sei proprio noiosa. Sai come li chiamiamo a Bologna, quelli come te? Eh. Ne... Comunque tu mi creerai un sacco di problemi mentali, secondo me. Mi sento grassa, brutta. Fai, 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 un momento. Ti senti o sei? Dai, non piange. Dai, asciugheri le lacrime con i soldi e che ti donano i sim. Concentrati, concentrazione. Come? No, no. Let's go! Una cosa che non ho mai detto, ma adesso finalmente posso dirla. Io sarei dovuto andare a vivere con altre due persone. Tre, in realtà. La prima era... Cioè, fino a poco tempo fa dovevo andare con questo ragazzo che era un mio amico. La seconda è Phil. Però siamo completamente opposti. Cioè, lui è super preciso, una persona tutta ad un pezzo. E io sono... Cosa sono io? Ma merda. La terza è la gokeshi e nulla. Non ho fatto gli auguri a mia nonna. È il suo ultimo compleanno. Anche perché il tempo che esce mi sa che... No, sì, insomma. Ok, questa è interessante. Aurora chiede. Vivendo assieme, vi capita di sentire ogni tanto l'impulso di fare sesso? Penso e intenda reciprocamente. Io per niente. Zero. Zero, te lo giuro. Tu? Zero. Virgola uno. È capitato che vi siete visti nudi o in intimo? Chiede Sergio. E in caso, quale è stata o sarebbe la vostra reazione? Tu sei nuda adesso, no? No. Tanto la censura. No. Dai! La madre del mio ragazzo mi odia. Che faccio? Di solito in realtà le madri un pelo di ragione ce l'hanno. Io paradossalmente invece piaccio ai genitori e non alla persona con cui so. L'importante è che poi il ragazzo non venga in qualche modo influenzato. Comunque smash. Come giudichi i piedi? Ha le dita lunghissime. Dai! Questo lo tagli e non lo dici. No, lo tagli, lo tagli. Bambuina proprio. Lo tagli. Lucilino, vivo o morto? Morto. Dai! Body count? Io una. Tu? Mai. Sono vergine. Perché lo chiedi, Matteo? Cosa ti interessa? Se posso dire? Le persone non sono un numero. La regola che io ho sempre in testa per il body count deve essere o 0 o 1. Se tu dici 0, ma che carino, è vergine. Vuol dire che è speciale, che è difficile, che sta aspettando quella giusta. Dici 1, cavolo, vuol dire che è speciale, che ha trovato quella giusta ma purtroppo non ha funzionato per vari motivi. Se tu già cominci ad alzare il numero e dire 6, 7 o 10, la ragazza ti guarda e dice ecco questo è un coglione. Tra i maschi lo si fa perché io, alfa, io ho infinito più uno. Tra i ragazzi non so se lo fate, dubito. Forse cercate di diminuire voi, tipo stare sempre un po' più basse rispetto... Noi un po' più alti magari. Sì. Noi un po' più bassi. Magari, sì. Tra maschio e femmina di solito accade il sesso, come vivi la sessualità. Con la mia esperienza, 0 o 1. L'uomo perfetto per molte ragazze o 0 o 1? Ma dipende, tu esci con quelle che hanno 19 anni, quindi ovvio che per loro... Uscirò con quelle che hanno 19 anni. Un messaggio motivazionale per chi invece non può ancora lasciarla a casa di mamma perché è povero. L'unica cosa che rispondo di solito, poi mi dice la tua, è quella di stringere i denti e cominciare a mettersi tutto da parte. L'unica spesa che dovete avere, secondo me, dai 20 ai 25 sono investimenti. Ogni tanto compravo dei vestiti che mi piacevano, le stronzate, però ovviamente lì era una questione mentale. Oltre all'investimento voglio stare bene mentalmente, quindi compro una maglietta per... Vabbè, ma ogni tanto dobbiamo... Spesso devi darti delle ricompense per il lavoro che fai. Che possono essere a mangiare fuori, che possono essere a tenerti quel giorno libero, che non devo dire di mettere via tutto quello che si può. Una cosa importante è fare una mia routine, che mi ha parato ad essere... La maggior parte del tempo è tipo super presto la mattina o super presto... Fagli sentire la grande botta! E nei giorni, nel momento in cui la nuova sveglia anche lascia persone in casa... Non comunque prestigiavo il mio spazio... Non ascoltai, però... Cose che non sopportate l'uno dell'altro. Questo è interessante! Ha un'avversione verso la lavapiatti. Per forza lavare tutto a mano. Non mette le scarpe dentro la scarpiera e le lascia fuori, perché devono arieggiare. Lascia le cose in casa, in giro. Ha mille cose inutili, tipo... Dai, dimmi cose che non ti piacciono di me. Io ogni tanto, anche solo per relax mentale, ho come voglia mia di lavare i piatti a mano. E lei odia questa cosa. Cioè, lei vuole che usiamo per forza la lavastoviglia. È la mia passione! Non mi toglierai la mia passione. No, ma va bene, tu li puoi lavare a mano quando vuoi. Però quello che fai tu è che lasci il piatto non storto. Quindi puoi pegnare quanto vuoi e... Non sopporto, anche se mi diverte, il fatto che sei così pulita. Pulita nel senso del modo di parlare, non pulita ordinata. Mi fa troppa ansia la cancel culture? Non vorrei mai che tutto quello che ho fatto mi venga distrutto perché ho detto una cazzata. Mi dispiace che non sei libera. Ma a me non sei libera. Sei incattonata, sei tipo... Ma, 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 una minuscola cosa. Saresti complice dei miei stupri e dei miei sequestri? Ovvio che sì!